Oh, badacchi, potenzo, sono i braccici ancora, allora sento una cosa, io sono l'alvarone e tipo, vi voglio invitare tutti a vedere il 7 febbraio lo spettacolo di Toscana Marema Maiala, l'hai parente, assigna, abito, provincia di Firenze Ci sono tutti i personaggi, perché se un buve niente vi piglio e vi battono in burro con queste mani lersce, vi piglio, vi spezzo tutto, vi fa un foglio e via e poi ci si rievi, ha inteso, che ha inteso un acchile, ha inteso un no Mi raccomando, il 7 febbraio, cioè mercoledì, ci si vede, non voglio storie, non voglio sentire e dice, io un cielo perché è uno fissato, chi prima arriva, prima alloggia ha inteso, se vuoi prenotare, gli è meglio, e se no mi incazzo, vi piglio il capo, ve lo battono in burro a te e a tutta la tua famiglia, coso, che ha inteso, io ve l'ho detto, Nacchile io vi aspetto, perché io sono il primo a fissare e vi raccomando, cioè, ci sarai il barista di Pauciano, lo zingaro stressato ci saranno doppiaggi inediti, dai vivo, ci saranno quelli più belli ci sarà la fia, la cica l'ammazzi, ragazzi, mercoledì sera appena una volta si finisce di cenare, gli avviano loro con lo spettacolo bucaioli, c'è le paste, bucaioli, le hanno fresche